Alle 10.15 ha preso il via la lunga giornata del ricordo in occasione del terzo anniversario della tragedia di Rigopiano. I familiari delle 29 vittime della valanga si sono radunati alla spicciolata presso il totem, che prima della valanga segnava l'ingresso al resort per un momento di preghiera. Tanta la commozione sui volti dei familiari, per cui la tragedia ha segnato per sempre le loro vite, soprattutto nel momento in cui per la prima volta, nel giorno della commemorazione, il GIP della Procura di Pescara ha autorizzato proprio i familiari ad entrare all'interno dell'area dell'hotel, ancora sotto sequestro per la deposizione di un fiore. Significa riaprire una ferita profonda e uno magari durante l'anno fa finta di non pensarci, ma poi a ridosso di questo giorno diventa impossibile. Ci piace purtroppo venire tutti qua, tutta la nostra famiglia ormai del comitato, venire qua a ricordare quelle proprie persone che non ce l'hanno fatta. È la prima volta che ci permettono di fare questo il 18 gennaio e sarà un'ulteriore emozione di questa giornata. State aspettando il Giardino della Memoria? Stiamo aspettando due anni che sta depositato giù a Di Clemente, una madonna con 29 cubi, ma che ci siamo impazziti? Qua dobbiamo capire se Ricopiano ha finito, però l'unica cosa sarà una preghiera. Io penso che se vengono a San Gabriele, io sto qua tutti i giorni, sono venuti pure dalla Cina, i cinesi sono venuti qua a portare un fiore dalla Svizzera, da tutte le parti del mondo. Non capisco io per quale motivo ci bloccano tutto. Decidessero loro dove ce lo vogliono far fare, lo mettiamo dove dicono loro. Nei loro volti non solo la commozione, ma anche la forza di andare avanti, come ha fatto Federica Di Pietro, figlia di Piero e Barbara, che sulla tragedia di Rigopiano martedì discuterà la sua tesi di laurea. Sì, ho deciso di rimettermi a studiare nel luglio 2017, l'ho fatto in totale, come dire, segreto. È stata una decisione che ho condiviso solo con mia sorella, ma per scelta non l'ho voluto dire a tutti. La mia famiglia l'ha scoperto solo il 25 dicembre di questo anno, del 2019. Ho deciso di studiare perché era l'unico modo per canalizzare le mie energie, i miei sentimenti. Ho voluto dare una prova scientifica a quello che io ho da subito pensato e probabilmente è stata subito un'opinione condivisa da tutti. Ma io ho sempre ritenuto che questa tragedia fondamentalmente fosse dovuta realmente alla negligenza di persone che non hanno svolto il loro lavoro. Ma non mi sono fermata alla superficialità della negligenza. Ho voluto proprio studiare il perché in determinati processi decisionali, cioè qual è il problema che avviene nei processi decisionali che poi portano a questi tipi di tragedie. Perché purtroppo Ricopiano non è l'unica tragedia, ve ne sono altre. Io non ho voluto analizzare le altre, in quanto gli atti di questa vicenda mi hanno alquanto devastata nel loro studio. Rientrare lì, che effetto ha fatto? È il nostro luogo, non lo so definire. È il nostro luogo, il posto dove erano i miei amici, dove siamo noi, punto. Poi la fiaccolata, partita dal Bivio Mirri ed arrivata presso la chiesa madre di Farindola dove Monsignor Tommaso Valentinetti ha ufficiato la solenne liturgia. La commemorazione per i tre anni della tragedia dell'hotel Ricopiano nel pomeriggio si è spostata presso il palazzetto dello Sport di Penne dove, oltre ai familiari e amici, hanno partecipato i vertici della regione Abruzzo della provincia di Pescara e delle varie forze armate. Inoltre è intervenuto anche il ministro della giustizia, Alfonso Bonafede. Purtroppo una triste notizia ha fatto ritardare l'avvio della manifestazione dove una signora di 70 anni è morta a seguito di un incidente in automobile probabilmente dopo aver accusato un malore. Il ministro Alfonso Bonafede ha preso la parola sul palco dopo la lettera scritta dalle mamme di Ricopiano che a gran voce hanno chiesto giustizia parlando di una ferita che resterà aperta non solo per le famiglie ma anche per lo Stato che deve stare vicino alle famiglie e impegnarsi giorno dopo giorno alla ricerca della verità. Io come sapete come ministro della giustizia non posso commentare le vicende giudiziarie o fatti su cui ci sono inchieste in corso. Sapete, certamente confermo che il ministero della giustizia si è costituito parte civile in un processo. Io oggi sono venuto qui per testimoniare ai familiari delle vittime di Ricopiano che lo Stato è al loro fianco e che lo Stato sarà al loro fianco finché loro non otterranno la verità. Io credo che oggi lo Stato debba essere al loro fianco a ricordare i loro familiari e poi debba portare però quel ricordo, debba portare quegli sguardi, debba portare quei volti devastati dal dolore poi all'interno delle istituzioni perché non dobbiamo dimenticare, perché non è possibile ricordare oggi e poi dimenticare gli altri giorni dell'anno. E il mio lavoro ogni giorno è affinché la giustizia possa funzionare e affinché lo Stato possa dare una risposta di verità. Ad accompagnare i familiari in questo pomeriggio diverse esibizioni canore tra cui quelle dell'orchestra diretta dal maestro Paolo Viola con un brano dedicato sia agli stessi familiari dal titolo Vexilla Regis Predunt e poi con il brano Rigopiano, questa volta dedicato alle vittime. A seguire è stata la volta di Alessandro Cavallucci che più volte si è esibito nelle serate presso l'hotel con il brano Marinella momento più toccante alle 16.49, orario della valanga quando accompagnato dal brano Signore delle Cime è stato srotolato il telone raffigurante i volti delle 29 vittime e la scritta mai più.